ciao a tutti oggi un nuovo video di tiger ho fatto un po di acquisti per il futuro perché voglio fare un'agenda un bullet per il prossimo anno e quindi mi sono comprato un po di cosine tiriamo fuori allora ho preso eccolo qua non so se ancora utilizzare questo prenderne un altro colorato da questo è nero e alle pagine nere puntinate dove ancora capire se usare questo però visto che alla fine c'è questa pagina qui con dei fiori e poi la data di un party con chi e cosa si fa poi c'è memorie magiche il planning per il party da giardino e poi non ci sono tasche penso ci fossero le tasche no quesito agenda oh madonna aspettate che trovo la luce agenda il planner personalizzabile ecco non so se usare ancora questa nera o un altro vedrà poi ho preso questi stickers al planner così 5 euro questi stickers per il bullet planner sono 512 pezzi adesso ve li apro vediamo che questi mi pare costassero 1 o 2 euro allora c'è questo foglio con le date tesi con i numeri questo sempre più chiaro questo su rosa rosa più scuro celeste sul blu su tutti i numeri verde e bianco e nero sono numeri con i triangolini poi ho preso altri adesivi per il bullet planner sono queste fantasie qui e molti altri libro con adesivi per l'agenda planner personalizzabile questo mi pare costasse i due euro adesso li apro ok allora c'è questi coltudo cuoricini important poi ci sono questi sempre to do bandierine frecce qui ci sono le scritte i giorni adesivi adesivi in generale questi sono molto carini le lettere numeri e bandierine poi ho preso di stencil set di righello stencil per agenda planner personalizzabile che sono questi si mettendo a fuoco si mette a fuoco si mette a fuoco Grazie.